L'Ariano inciampa in casa e lascia tre punti al Real Caposele in uno scontro diretto importantissimo ai fini dell'alta classifica. Occasione sprecata dalla squadra di Mister Greco anche perché la battistrada Passo e Clano frena con un pareggio sul campo dell'Atletico Sansossio. Una vittoria avrebbe consentito alla formazione del Tricolle di portarsi a meno uno dalla vetta che invece resta a quattro lunghezze. Gara iniziata nel migliore dei modi per i di casa che riuscivano a sbloccare il risultato nel corso del primo tempo grazie alla rete realizzata su calcio di rigore da Armonico. Riscatto personale per il calciatore che aveva fallito l'appuntamento con il gol nell'ultima occasione in cui si era presentato dagli 11 metri. Il vantaggio acquisito dalla squadra del Tricolle non abbatteva la formazione ospite ben conscia del fatto che perdendo lo scontro diretto sarebbe stata sopra avanzata in classifica. La consapevolezza nei propri mezzi spingeva la squadra al Tirpina a cercare e trovare il gol del pareggio prima della fine dei primi 45 minuti. Il pari portava la firma di Napolillo. Squadre attenti a non sbilanciarsi troppo e non subire le ripartenze avversarie nella ripresa. Non mancavano le occasioni da una parte e dall'altra ma a far fruttare meglio le situazioni erano gli ospiti che riuscivano a piazzare il gol del definitivo 2 a 1 grazie a Sepe. L'Ariano non aveva più tempo e modo di rimettere in piedi la partita dovendo prendere atto per questa gara andata in archivio della superiorità degli avversari che dal canto loro continuano a restare in scia della capolista. Ancora una volta la squadra di Greco non è stata capace di gestire il vantaggio acquisito ed ha ceduto le armi facendosi rimontare dagli avversari. Sconfitta pesante che non deve però abbattere un ambiente che sa bene di poter disputare un campionato di livello. Stesso discorso per l'altra squadra del Tricolle la Vissariano a Cadia anch'essa sconfitta nella gara di sabato dal friggento Sturno. Anche qui 2 a 1 il risultato con il gol arianese purtroppo inutile a firma di Macchione. La Viss resta ferma a quota 10 in classifica più distante dalle zone che contano rispetto all'altra formazione del Tricolle che è attestata a quota 13 e quinta in classifica staccata di due punti proprio dal Real Caposele. Si è detto del pareggio del Claudio Oliva passo e clano mentre ha conquistato una vittoria per 4 a 2 sulla Felice Scandona il Venticano che resta al secondo posto in compagnia del Torella De Lombardi tornato al successo dopo il K.O. per mano dell'US Ariano della scorsa settimana. Vittoria per 2 a 1 sull'atletico Castelfranci. A completare i risultati della settima giornata il rotondo 5 a 0 del Rocca San Felice sulla Folgore Lacedonia ed il 3 a 2 dell'Orsara di Puglia sulla Bisaccese ora ultima in classifica con soli 5 punti agganciata dall'atletico Sansozio.